Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video della Bioprofumeria Aquilana. In tantissimi mi avete chiesto il palo santo. Lo trovate nella Bioprofumeria Aquilana, in un sacchetto come questo, dentro ce ne sono 5, al costo di 8,50€. Ma oggi andiamo a vedere come si accende il palo santo, perché poi non è così scontato, perché non tutti sanno accendere il palo santo. Allora, prendiamo un palo santo e andiamo ad accendere la punta. Il palo santo può essere utilizzato più e più volte. Allora, accendiamo e lo andiamo a spegnere. Accendiamo e lo andiamo a spegnere. Questo è il fumo giusto che deve rilasciare il palo santo. Ricorda a tutti di usare il palo santo sempre in un posto ben arieggiato. Allora, il palo santo perché si accende in questo modo? Perché se noi andiamo ad accenderlo a fiamma vita, questa fiamma avvolge subito il palo santo e brucia subito l'essenza di palo santo che è intorno al tronchetto. E così ogni volta che poi andiamo ad accenderlo, invece darci buon umore e buon odore, dà cattivo odore. Quindi si fa in questo modo, si accende un po' e poi si soffia, si accende un po' e poi si spegne. Il palo santo toglie tutte le negatività, scioglie le tensioni, eccolo qua. Quindi si usa attraverso la brace, non attraverso la fiamma. Quando lo usate potete anche poggiarlo in questo modo al porta incenso, se ne avete uno. E buon relax e buon riposo a tutti!